Ciao e bentornati su Nameless Games. Questo è il primo episodio di una serie che andrà ad affrontare la realizzazione di un RPG multiplayer utilizzando Unity e il framework Mirror, una versione migliorata di UNET, il sistema multiplayer proprietario di Unity ormai deprecato. Mirror è estremamente supportato e vanta una community molto attiva e disponibile su Discord, oltre a essere stato integrato all'interno di molti videogiochi, come potete vedere. Ok, creiamo quindi il nostro progetto. Selezioniamo 2D e gli assegniamo un nome, come per esempio RPG Tutorial. La prima cosa da fare, quindi, è importare nel nostro progetto il framework Mirror. Andiamo nell'asset store e cerchiamo Mirror. Clicchiamo sul primo risultato e andiamo nella pagina di Mirror. Ora, io avendolo già acquistato e scaricato ho direttamente il tasto import. Voi non dovrete fare altro che comprarlo in maniera totalmente gratuita, cliccare Download e una volta terminato, cliccare su Import. Il framework viene dato con diversi esempi che in questo tutorial non serviranno, quindi io li deseleziono, ma vi consiglio di analizzarli perché sono molto utili. Perfetto, una volta importato creiamo una cartella External Assets dove inserire tutto il materiale esterno che andremo a utilizzare, in modo da tenere ordinato il progetto. Anche se per ora avremo solamente Mirror da inserirci, più avanti avremo sicuramente altre cose. Ora creiamo un oggetto vuoto e in caso nei valori della position ci fossero valori diversi da 0 a 0 a 0, facciamo Reset. Dopodiché gli cambiamo nome in Network Manager. E aggiungiamo la componente Network Manager in modo da poter gestire la connessione Server Client. Aggiungiamo inoltre la componente Network Manager in modo da avere per le prime fasi di sviluppo un'interfaccia basilare in modo da testare anche facilmente quello che realizziamo. Come potete vedere ci fornisce già il tasto Host con cui creare un server dove far collegare altri giocatori e un testo Client proprio per collegarci a un'eventuale partita già creata. Allo stato attuale, se clicchiamo su Host, non succede niente, non compare niente, anche se siamo in gioco, in quanto non abbiamo ancora effettivamente fatto nulla. Creiamo quindi una cartella script e andiamo a vedere come realizzare una versione personalizzata del Network Manager. La chiamiamo Network Manager Custom e andiamo a vedere come più avanti potremo aggiungere delle ulteriori impostazioni e comandi a quello già esistente. La prima cosa da fare sarà ereditare la classe Network Manager che viene fornita da Mirror ed è quella che abbiamo già associato al nostro oggetto. E dopodiché andiamo a vedere quali sono le callback che Mirror ci mette a disposizione per poter gestire le varie chiamate in maniera personalizzata. Una di queste callback, per esempio, è la OnServerAdPlayer. OnServerAdPlayer ci permette di poter configurare le impostazioni iniziali di ciascun giocatore quando si unisce al server. Un'altra callback molto utile, sicuramente, è OnServerDisconnect, in modo da poter gestire le disconnessioni dei vari giocatori in caso si dovessero verificare. Perfetto. La seconda cosa principale che ci serve per realizzare un gioco con Mirror è un player prefab, ossia un oggetto giocatore che viene istanziato dal Network Manager per ogni giocatore che si unisce al server. Quindi, andiamo nella nostra cartella script e creiamo una nuova classe, la chiamiamo Player. Bene, l'oggetto Player prefab non deve ereditare alcuna classe specifica, se non il solito MonoBehavior, ma per poter essere in comunicazione con il Network Manager e con gli altri giocatori, quindi ricevere comandi e sincronizzare tra i vari giocatori, occorre erediti la componente Network Behavior, che non è altro che un MonoBehavior personalizzato da Mirror ed è che sia in grado di gestire le varie comunicazioni con il server. Per esempio, abbiamo a disposizione la callback OnStartAuthority, oppure quella OnStartClient e le varie altre che potete vedere qui e che noi invece analizzeremo più avanti. Quindi, andiamo nel nostro oggetto e aggiungiamo un quad per poter vedere graficamente quello di cui abbiamo parlato, aggiungiamo la componente Player all'oggetto, ne cambiamo anche il nome, creiamo una cartella prefab, togliamo il Network Manager che avevamo messo e aggiungiamo quello che abbiamo realizzato noi e ricordiamoci di riaggiungere il Network Manager UD e salviamo tutto nella cartella prefab. Ok, togliamo dalla scena il nostro oggetto giocatore, lo aggiungiamo nel campo del Network Manager Player prefab e se ora andiamo a provarlo e clicchiamo su Host, vediamo che il Network Manager istanzierà il nostro oggetto giocatore non appena saremo collegati al server. Bene, ora andiamo a realizzare un semplice sistema di movimento per vederlo in azione. Aggiungiamo una variabile per la velocità e diamo un valore di default che dovrebbe andare abbastanza bene e poi aggiungiamo una gestione basilare degli input per il movimento. Ok, transfer punto position uguale a vector 3. qui ho sbaglio utilizzato una using errata. Ok. Bene, ora mettiamo tutte le direzioni, mettiamo gli else if in modo da non poter fare più di una direzione per volta. Left, left, down. Ricordatevi di usare il time delta time per non avere differenze di prestazioni tra un pc e l'altro e togliamo il down in modo che il movimento sarà continuato. Andiamo a provare ed ecco qua che il nostro oggetto giocatore finalmente si muove. Perfetto. Ma cosa succede se ora proviamo a connetterci anche con un altro giocatore? Bene, andiamo su file, build and run, creiamo una cartella chiamata build, eh sì, ovviamente dobbiamo creare fisicamente subito una nuova cartella per poterla utilizzare, la selezioniamo qua, e proviamo. mettiamolo qua, così vediamo tutte e due. Tolgo il maxime su un play. Vai, faccio host, ed ecco il nostro quadrato, lo sposto. Mi collego con il client, ed ecco qua il quadratino dell'altro giocatore dove l'abbiamo creato, e mi muovo. Come potete vedere i movimenti non sono sincronizzati, ma soprattutto possiamo muovere. al momento sia il nostro quadratino che quello dell'altro giocatore. Quindi, vediamo subito a vedere come poter muovere solamente il nostro quadrato. È molto semplice ed è sufficiente utilizzare una semplice if, una sola. Mettiamo che se non ha l'autorità, ritorniamo. Se adesso proviamo in single player, continueremo a non vedere niente di diverso. Se invece proviamo come prima con due giocatori, sempre build and run, vediamo appunto, ecco fatto, che il nostro movimento sarà solo per il nostro giocatore, ma ancora non è sincronizzato. Sono entrambi fermi. Quindi, come mai è funzionato? Perché l'as authority è una variabile della classe network behavior che va a dirci se il client ha autorità o meno su quel giocatore. Se non ce l'ha, ritorna, altrimenti esegue il codice che abbiamo inserito dopo. Benissimo. Adesso, per poter muovere il nostro oggetto sincronizzato anche sugli altri giocatori, dobbiamo aggiungere la componente network transform. aggiungiamo, gli diamo l'autorità sul client in modo da far sì che sia il client a poter decidere cosa fa questo oggetto piuttosto che il server. E andiamo a provare. Bene, mi sposto, prendo la posizione di dove sta, mi muovo, ecco fatto. Come vedete si è mosso, ora non è nello schermo perché la finestra è una risoluzione più piccola di dove si trova il personaggio, ma come potete vedere nell'altra finestra il quadrato si sta muovendo. Se io ora vado qua, mi muovo, torno nell'altra finestra e mi sono mosso. Perfetto. In questo episodio abbiamo mosso i nostri primi passi all'interno del vastissimo mondo del multiplayer. Abbiamo creato un network manager tutto nostro e abbiamo fatto in modo da poter muovere il nostro giocatore anche all'interno della finestra degli altri giocatori. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao! 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 Ciao!